ma soprattutto è gente di tutti i mestieri, notai, avvocati, commercianti, commercialisti, operai insomma c'è di tutto qua la notte del poker, tanti appassionati in Italia del Texas Hold'em ma pochi professionisti e tra i pochi professionisti il professionista per antonomasia ce l'abbiamo noi qui ed è lui, Luca Pagano. Luca ma cosa vuol dire essere un professionista del poker? Cosa significa? Che fa un giocatore di poker? Fa una vitaccia, fa veramente una vitaccia, ci svegliamo sempre verso mezzogiorno, luna, pranziamo, andiamo a lavorare che vuol dire giocare 6-7 ore e poi usciamo con gli amici, quando non sappiamo cosa fare prendiamo un aereo andiamo a New York, andiamo a giocare a Las Vegas, passiamo le vacanze a Barcellona, una vitaccia davvero Pupo Davvero una vitaccia? Beh, se no non saremo così pochi Non ti fare convincere Pupo, mi raccomando, vieni su da noi No, tranquilli, tranquilli Allora sbrigati dai, vieni su Sto arrivando, anzi un attimo, che abbia inizio la notte del poker